Ciao a tutti, bentornati sul canale e ricominciamo i video su jig che è quasi arrivata alla fine e nel video di oggi andremo a vedere dal numero 55 fino al 58 compreso quindi diciamo che ci mancheranno poi alla fine solo due numeri per completare tutto ma non resisto e quindi li monto oggi con questi numeri in teoria completiamo al 100% il nostro jig quindi avremo le luci del raggio delta funzionanti e iniziamo a montare la base che da quello che vedo dall'esterno delle confezioni è decisamente superiore alle mie aspettative quindi iniziamo immediatamente a montare il numero 55 allora iniziamo con il numero 55 che contiene il primo pezzo del raggio delta il circuito funzionante con luci che andiamo a prendere e diciamo lo tiriamo fuori per montarlo adesso vediamo qui ok in questo caso ci dice semplicemente di metterlo da parte per il numero successivo ma noi ce l'abbiamo già quindi possiamo già aprire il numero successivo che è il 56 eccolo qua e con questo ce lo fanno sicuramente montare infatti allora andiamo a prendere tutti i pezzi qui fuori li mettiamo sul tavolo facendo attenzione a non perdere questi pezzi qui piccolini dopodiché andiamo a prendere il nostro jig li apriamo il torace e cominciamo l'installazione allora in teoria dobbiamo mettere questi pezzi qua ma dobbiamo capire esattamente bene come posizionarli perché c'è questo connettore che va unito e il filo deve passare in questo buco qua in mezzo quindi fondamentalmente non dobbiamo fare capolate fare le cose con calma e cercare di metterlo nel modo migliore buona la prima allora iniziamo con prendere questo pezzo che ha il circuito a bordo e lo andiamo ad incastrare qua lateralmente lo andiamo ad infilare qui vedete che qua ci sono i fori per metterlo quindi lo incastriamo qui senza lasciarci il diro in mezzo possibilmente e una volta che è posizionato andiamo a bloccare anche il punto frontale che è quello con l'interruttore quindi lo andiamo a mettere così dopodiché spingiamo bene la parte dietro ok vedete che questo l'ho messo in questo modo adesso qui abbiamo il circuito che si posiziona qua e dobbiamo mettere l'altra parte quindi andiamo a capire prima come si incastra come si monta il connettore dopodiché andiamo a posizionare quest'altro pezzo quindi metto il connettore in questo modo lo vado a collegare mi raccomando fate attenzione perché per quanto sia fatto bene si può sempre rompere dopodiché prima di fissare il pezzo andiamo a vedere se funziona oh mi sembra che funzioni correttamente quindi andiamo a spegnere il circuito poi lo proveremo bene andiamo a mettere il circuito stampato lateralmente in modo ecco di così cerco di farvi vedere così lo blocchiamo in questo modo è bloccato e non si può muovere dopodiché andiamo ad incastrare anche quest'altra parte che si va a mettere tra qua e qua vediamo se ci riesco sì, perfetto quindi lo abbiamo posizionato direi in maniera precisa vediamo se funziona tutto ok dopodiché prendiamo i pettorali e ci andiamo ad installare sopra queste parti che ovviamente sono le cose più belle che potevamo metterci sopra andiamo a creare il nostro pettorale di jig facendolo esattamente come ce lo ricordavamo da piccoli perlomeno io io lo vedevo quando avevo 4 anni quindi insomma qualche annetto fa e qui da questo lato andiamo a mettere quello che sarà l'interruttore di accensione e spegnimento quindi qui ci sono 3 dentini quindi dobbiamo fare attenzione a metterli correttamente e questo chiaramente deve potersi muovere poi quando lo posizioniamo qua fondamentalmente vabbè adesso non funziona perché non è giù ma premendo questo lato qui si azioneranno le luci quindi posso andare a chiudere e poi facciamo una prova quindi andiamo a chiudere mettiamo tutti i vari pezzi a questo punto possiamo spingere bene in maniera definitiva perché diciamo non li andiamo più a toccare quindi possiamo mettere tutti i vari pezzi anche se come al solito lì nelle istruzioni ci fanno aspettare perché ovviamente no dobbiamo arrivare al punto finale per chiudere tutto secondo loro ma insomma chi se ne frega abbiamo aspettato più di un anno quindi ormai non ci fermano più lo vogliamo completare assolutamente quindi andiamo a chiudere definitivamente qua e andiamo a mettere il pettoralone vediamo un attimo che figata chiaramente adesso se spingo qua funziona e possiamo andare a stringere e chiudere definitivamente anche le parti laterali procediamo con il numero 57 quindi con il primo pezzo della base che chiaramente diciamo nella base qua ci fanno anche fare cose che noi abbiamo già fatto ma ovviamente non è che potevamo aspettare andiamo a vedere questa base che ci viene fornita da avvitare quindi diciamo ci sono due viti da mettere ma guardate che bella che è questa base è fatta veramente bene non me lo aspettavo pensavo che fosse diciamo la classica roba per allungare il brodo e farci aspettare spendere soldi per altri quattro numeri invece è decisamente bella quindi è un piacere andare a montarla allora io vado ad avvitare queste due viti qua poi apriamo anche l'altra e iniziamo a montarla nella speranza che sia bella anche diciamo a livello funzionale non solo estetico ma sicuramente sì perché vedete quanto è spessa è veramente grossa allora andiamo a mettere anche questa qua questa vabbè ah no qui in realtà ah ho capito a che serve questa vite questa vite poi si mette qui e si va ad incastrare direttamente sul piede quindi un'ottima cosa una buona cosa e forse è il motivo per cui eh ci consigliavano di montarla tutta insieme alla fine ma noi l'apriamo adesso subito andiamo a vedere quindi in teoria mi aspetto di avere infatti qui abbiamo la stessa cosa vabbè qua ci continuano a far chiudere ma chi se ne frega noi l'abbiamo già fatto e andiamo a vedere anche qua cosa dobbiamo fare allora fondamentalmente la base va montata andiamo a vedere allora dovrebbe essere così esatto questa si va ad incastrare tipo puzzle in questo modo e anche in questo caso abbiamo la vite che esce fuori e va ad acchiappare il piede allora io mi tengo queste due chiuse qui e vado ad avvitare questa in modo tale da conservarle così tra due settimane potremo fare diciamo l'ultimo video dedicato a jig e andare ad avvitarci sotto i piedi quindi è un'ottima iniziativa però guardate che figata che è questa base con tutte le informazioni 12 metri di altezza 25 tonnellate l'armatura di acciaio la velocità running speed arriva a 300 km all'ora è elettromagnetico come armi insomma ci sono ci ha indicato veramente tutto quindi è veramente figa e siccome c'è un sacco di spazio per i più smanettoni chi vuole ci può anche andare a mettere qualche lucina dentro per abbellirla eccolo qua quindi il nostro jig completato al 100% guardate che figata con le sue luci ovviamente dovremo cambiare le batterie che stanno nella testa perché sono vecchie più di un anno quindi insomma ci sta che sono un po' scaricate un piccolo accorgimento per questo braccio faccio una premessa non è una mia idea ma qualcuno me l'ha detta non mi ricordo chi sei quindi se vedi questo video sappi che è una tua idea per reggere il braccio in posizione basta metterci un po' di pellicola sopra e quindi il braccio poi rimane nella posizione che volete quindi un'ottima idea non mi ricordo chi me l'ha detto quindi grazie e a questo punto abbiamo anche i primi due pezzi della base veramente fantastica per cui adesso procederemo in questo modo aspetterò di avere gli ultimi due numeri così faremo il video conclusivo andremo a montarlo sulla base il nostro jig sulla base lo avvitiamo come avete visto i piedi vanno avvitati sulla base e poi lo posizioneremo sulla mensola dove rimarrà spero per lungo tempo detto ciò vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video detto ciò vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao 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 ciao